La partita è importante per la società, per noi che l'abbiamo preparata da tanti mesi. Ce la siamo conquistata questa finale al Philadelphia dopo tanti anni. Faremo di tutto, faremo il possibile per portare la Coppa a casa sia nell'andata sia nel ritorno a Milano. Sarà difficile, siamo consapevoli di dover fare una partita di spessore, di grande livello e di portare la Coppa a casa che desideriamo tanto.